E' la ministra dell'istruzione Valeria Fedeli la più ricca del governo Gentiloni, la titolare del ministero di Viale Trastevere nella dichiarazione per l'anno 2016 a un reddito imponibile di 180.921 euro. In coda il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina con 46.750 euro e quanto emerge dalla pubblicazione sul sito parlamento.it delle dichiarazioni patrimoniali dei senatori e deputati della diciassettesima legislatura, dei ministri, viceministri e sottosegretari non parlamentari dei governi Renzi e Gentiloni. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, nel 2016 ha dichiarato un reddito di circa 340.000 euro, oltre il doppio di Laura Boldrini, presidente della Camera, imponibile da 144.000 euro circa. Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, risulta più povero dei suoi parlamentari. Il suo reddito si attesta infatti a 71.957 euro, con un vero e proprio crollo rispetto all'anno precedente, quando dichiarava 355.247 euro. Uno scarto di circa 283.000 euro, cinque volte in meno rispetto al 2015. Di Maio, Di Battista e gli altri parlamentari pentastellati, invece, hanno dichiarato redditi che sfiorano i 100.000 euro. Si accodano l'attuale titolare della Farnesina, Angelino Alfano, con 102.300 euro, e quello dello sviluppo economico Carlo Calenda, con 102.058 euro. Sotto la soglia dei 100.000 ci sono invece Madia, con 98.816 euro, Orlando e Lotti, a pari merito, con 98.481 euro, Lorenzin, con 97.576 euro, e Pinotti, con circa 97.000 euro. Tra gli ultimi, anche il ministro dell'Interno, Marco Minniti, con circa 93.000 euro, e Nico Dascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato, con 277.000 euro.